Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Che ne dite dei fagottini con la pincetta in scamorza? Una bontà unica! Andiamo a vedere la ricetta Un like poi se vi piace il video Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti E vi lascio appunto alla ricetta Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi al mio canale Che buone! Il momento più bello è quello dell'assaggio È troppo buone! Poi condito con niente perché la pincetta lascia giù già di suo Come un contorno di patate Un pavoloso Un pavoloso Buone? 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 Non ci parla con la bocca piena Però è troppo buone Ciao!